Far acquisire agli imprenditori le opportune conoscenze per affrontare le sfide dei mercati internazionali attraverso una formazione specifica, oltre che fornire le conoscenze per creare una vera e propria vetrina digitale. Con questa finalità, CODAS, la Confederazione delle Organizzazioni Datoriali Autonome del Salento, ha organizzato Digital Export, quattro corsi di formazione gratuiti che prenderanno il via il 15 di ottobre. Riuscire a conoscere tutte le opportunità, comprendere anche come approcciarsi con l'estero, quelle che sono le normative di riferimento e anche le prassi, significa farlo in maniera consapevole e quindi certa, per uno sviluppo sicuro, programmato, della propria attività, che non porti i riverberi che possono essere anche invece di danno per l'azienda, se non si conosce i mercati di riferimento con i quali ci si approccia. Federaziende, Confimprese Salento e PMI Italia, che tra l'altro siedono all'interno del Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, decidono, ecco, per la prima volta di fare squadra, di presentare un progetto, diciamo, unitario e ovviamente ci auguriamo che questo modo di fare organizzazione datoriale, associazionismo delle imprese, poi vada nel tempo, insomma, a diffondersi. Se vogliamo andare con le piccole imprese al di là, insomma, del territorio e del mercato prettamente locale, dobbiamo anche utilizzare quegli strumenti innovativi e tecnologicamente, insomma, avanzati. Il contesto ormai è generalizzato, è internazionalizzato, quindi per essere competitivi bisogna ovviamente passare per i mercati esteri, è quasi d'obbligo. Quindi corsi di questo genere sul commercio internazionale, sul marketing internazionale, sulla gestione dei rapporti con i partner esteri sono sicuramente molto importanti. Ciascun corso avrà la durata di 20 ore. Per informazioni si possono consultare le pagine Facebook e siti internet dalle tre associazioni costituenti, la CODAS, oltre che quelli della Camera di Commercio di Lecce.